L'arte è vita, la musica un linguaggio universale. Venerdì scorso, nella splendida cornice della Basilica di San Marco Evangelista al Campidoglio, la Onlus, la Voce di Rita, ha organizzato l'iniziativa corale Apriamo le porte alla musica. Ospite d'eccezione è l'ensemble della Polizia Lituana, superbamente diretta da Gedre Genutaitite. Per me è molto piacere sempre venire a Roma e a Italia, anche la nostra collaborazione tra Polizia Italiana e Lituana, non solo come lavoro, noi cantiamo insieme e questa esperienza è molto preziosa per me. È sempre molto piacere venire qui in Italia. A organizzare e presentare l'evento è stata la consigliera dell'Ottavo Municipio di Roma Capitale, Eleonora Tagli. Praticamente abbiamo fatto un gemellaggio con la mia parrocchia di San Sebastiano fuori le mura, in Appia Antica. San Sebastiano è il patrono di tutti i militari e ce l'hanno anche loro ovviamente in Lituania. Quindi tramite questo gemellaggio, grazie al nostro ex viceparroco che ha ideato tutta questa bella iniziativa, insomma questa organizzazione, siamo andati in Lituania e loro sono venuti a Roma. Quindi abbiamo fatto questo scambio culturale, il gemellaggio, per conoscere le culture, per stare insieme, anche il canto perché loro cantano, pure io insomma. Quindi insieme abbiamo ideato un po' tutto, anche il concerto. Il canto perché è un pagamento con il mandamento di San Sebasti. Grazie a tutti